Il termostato TPU-1 riduce al minimo i costi di riscaldamento domestico, abbassando automaticamente la temperatura sulla base delle tue impostazioni, risparmiando energia e denaro, mentre sei fuori casa o quando dormi. Grazie alla sua interfaccia utente semplificata, basterà un clic per modificare la temperatura, sia che si tratti di avvio o spegnimento anticipato. Test indipendenti hanno dimostrato che abbassare la temperatura di un solo grado può ridurre i consumi addirittura del 10%. La funzione Click & Save del termostato TPU-1 è semplice ed efficace. Bastano pochi clic per ridurre o di un grado le tue impostazioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, a beneficio dell'ambiente e delle tue tasche. Danfoss TPU-1. Il comfort a casa tua. Semplice. Contatta il tuo installatore o visita il tpuan.danfoss.com Grazie a tutti. Grazie a tutti.